Siamo su Fosso Valle Lunga a Pescara, a poche centinaia di metri il mare, un odore nausabbondo, un'acqua che cambia colore per metà e risaliamo, schiuma abbiamo visto e poi lo scarico e si fa molto bene il cambiamento addirittura anche del fondo, è veramente imbarattante a che punto siamo arrivati qui in Abruzzo sui fiumi e sui torrenti. Nel Fosso galleggiano cose non proprio edificanti che provengono da questo scarico, stiamo aspettando la forestale qui a Fosso Valle Lunga, l'odore è nausabbondo e sicuramente non è il massimo, insomma è veramente imbarazzante la situazione che c'è sui nostri torrenti e fiumi qui in Abruzzo. I carabinieri forestali sono arrivati a campionare sul Fosso Valle Lunga, dopo le segnalazioni per questo scarico che praticamente è a poche centinaia di metri dal mare. Sì, un po' di WPT, zero inizio.